Arzignano dichiara guerra al rifiuto selvaggio. Il 2021 è stato un anno segnato da una raffica di controlli che hanno permesso di individuare i trasgressori, nella metà dei casi scoperti grazie a indizi e analisi sui rifiuti e per il resto con l'uso di telecamere mobili. In tutto 30 sanzioni per un totale di 8100 euro. A pagarle i responsabili dell'abbandono dei rifiuti, 15 italiani, 13 stranieri e due ditte. Un lavoro anche di indagine per risalire ai responsabili in cui la polizia di quartiere ha giocato un ruolo fondamentale. La polizia di quartiere svolge una funzione fondamentale a servizio della città perché ricordiamo che è solo grazie ai controlli e alle sanzioni che si prova a mettere un freno all'odioso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Per garantire un'adeguata copertura dei quartieri e delle zone da controllare sono state eseguite in tutto una novantina di installazioni di telecamere nelle zone strategiche della città. Gli occhi elettronici mobili sono stati posizionati da una a due settimane nei luoghi a rischio abbandono segnalati dai cittadini. Al termine del periodo la polizia locale ha scaricato e controllato le immagini registrate. Per il 2022 abbiamo inoltre già in programma l'acquisto di nuove fotocamere mobili per aumentare la capacità di monitoraggio dei quartieri e delle zone più critiche che ci vengono frequentemente segnalate dai cittadini.